Un episodio speciale che mi è stato richiesto da più di una persona, oggi vado a parlarvi dei modi di lettura, ovvero di come la nostra fotocamera è in grado di regalarci delle foto perfette o delle foto orribili. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi vi parlo di fotografia, in particolare di un sottomenù della nostra macchina fotografica che non tutti sanno usare ma che molti mi hanno chiesto di spiegare e sono qui oggi a fare proprio questo. Per questo motivo vi invito a seguire questo contenuto fino alla fine perché andrò a spiegare man mano quali sono le varie voci selezionabili e che effetto producono sulle nostre foto. È importante che lo seguiate fino alla fine perché dovete riuscire a capire bene come governare questo strumento altrimenti in alcuni contesti rischiate di produrre delle immagini non all'altezza delle vostre aspettative. Prima di cominciare vi ricordo che se volete supportare questo canale potete farlo immediatamente cliccando il bottone iscriviti qui sotto e attivando anche la campanella per non perdere le notifiche. Molto bene, la prendo un po' larga. Dovete sapere che i dispositivi fotografici e video, pressoché tutti, hanno un sistema interno di lettura della scena. In parole povere dispongono di un esposimetro interno. Ora per chi non lo sapesse un esposimetro è un simpatico ghismo, un piccolo affarino elettronico che ci permette di misurare la luce. Se io avessi un esposimetro in questo momento, cosa che non ho, potrei misurare la luce che sta arrivando dalla mia luce principale e mi sta illuminando e potrei misurare la luce che viene dalle mie luci dal retro. Quindi sarei in grado di avere una lettura prima di una luce, poi dell'altra e poi dell'altra ancora. L'esposimetro è uno strumento dedicato che serve a misurare le singole luci, quindi è uno strumento che serve ad avere un controllo totale sulla luminosità. Ma questo non sempre è possibile. Per fortuna, qualsiasi cosa stiamo facendo, qualunque dispositivo fotografico stiamo utilizzando, abbiamo un piccolo esposimetro incorporato nel nostro mezzo fotografico che tramite un indicatore come questo ci mostra se la nostra immagine è esposta correttamente. Che cosa significa però esposto correttamente? Ora io sono qui in compagnia di questo bellissimo checker di X-Rite. Questo è un color checker che vi vado a mostrare. L'ho già fatto vedere in altri contenuti, quindi non è certo la prima volta. Come potete vedere qui abbiamo una tavolozza con dei colori che servono per creare un profilo personalizzato e avere i colori fedeli in camera della scena che stavamo filmando. Se io vado a aprirlo ulteriormente, vedete che qui abbiamo una cosa un pochettino diversa, ovvero abbiamo un bianco e un grigio 18%. Perché il grigio 18%? Per fare il bilanciamento del bianco, certo, ma anche per fare l'esposizione. Ora dovete sapere che le nostre fotocamere e l'esposimetro interno delle nostre fotocamere sono tarate sul grigio 18%. Questo perché si è stabilito che il grigio 18% è una tonalità abbastanza vicina a quello che noi siamo abituati a percepire con i nostri occhi per cui in una fotografia in luce diurna, mediamente, le cose esposte correttamente hanno dei mezzi toni che ricadono intorno al grigio 18%. Tutti gli esposimetri dei nostri dispositivi fotografici stanno cercando il grigio 18% e quindi l'ago del nostro esposimetro andrà a coincidere con lo zero nel momento in cui la nostra scena sarà esposta sul grigio 18%. In parole povere, se abbiamo il nostro ago al centro, quindi se abbiamo un'esposizione corretta e bilanciata, probabilmente la nostra immagine conterrà dei mezzi toni che sono grigio 18% e quindi avremo bilanciato le alte luci con le ombre, quindi sarà un'immagine bilanciata. Potrebbe non essere quello che vogliamo. Per esempio, nell'immagine che state vedendo in questo momento non è rispettato questo parametro. Questa è un'immagine dove ci sono io che sono esposto correttamente ma poi c'è tantissimo nero, è molto scura questa immagine. Quindi questa immagine non è esposta per il grigio 18% perché io sto esponendo a mano e poi andremo a vedere questo che cosa comporta. Esporre correttamente con l'esposimetro significa andare a fare dei ragionamenti. Io in questo caso ho esposto solamente per il mio incarnato il resto della scena, la sto trascurando e vi farò vedere come si fa a ottenere questo risultato perché se noi lo facciamo in automatico deciderà sempre la fotocamera e avremo un risultato che sarà molto simile a questo e sarà quindi lontano da quello che volevamo veramente. Ma andiamo ora a prendere una fotocamera in maniera tale che io possa farvi vedere come funzionano i modi di lettura dell'esposizione e come possiamo utilizzarli per andare a migliorare la nostra fotografia. Molto bene, eccoci qui in compagnia di una fotocamera che come ben sapete io amo molto che è la Canon EOS 700D. Adesso andiamo ad accenderla, andiamo ad accendere il suo menu e come potete vedere qui mi sono già posizionato nel menu corretto quindi qui abbiamo modo lettura. Se noi lo premiamo vedete che abbiamo una serie di opzioni. Abbiamo misurazione valutativa. Che cosa fa questa funzione? Fondamentalmente ci permette di avere una lettura della luminosità della nostra scena con prevalenza al centro e con un preciso riferimento al punto dove stiamo mettendo a fuoco. Quindi questa qui è la modalità che si usa più spesso quando si è principianti fondamentalmente perché in questo modo noi siamo in grado di avere una lettura corretta nella maggior parte delle volte e nella maggior parte dei contesti. Infatti la fotocamera andrà automaticamente a dare un peso maggiore a quello che sta nel centro del fotogramma ma terrà anche conto di dove stiamo mettendo a fuoco. Questa è una cosa molto importante perché a seconda di dove stiamo mettendo a fuoco l'esposizione potrebbe cambiare lievemente. Ovviamente con tutto quello che questo comporta un'esposizione di questo tipo difficilmente sarà costante nel tempo perché dipenderà da dove stiamo mettendo a fuoco e quindi se stiamo scattando più foto in un contesto variabile come può essere un evento o un concerto rischiamo di non avere un'esposizione costante se stiamo scattando con una modalità automatica. Procediamo e vediamo che abbiamo misurazione parziale. Ora questo è il metodo che io utilizzo la maggior parte delle volte anzi fondamentalmente io non tolgo mai la mia macchina da questa modalità. La misurazione parziale mi consente di misurare la mia esposizione nella parte centrale del mio fotogramma quindi avremo un cerchio che nella maggior parte dei casi è anche riportato sullo specchio quindi io vedo l'area che sto prendendo in considerazione che è un cerchiolino nel centro del mio fotogramma. La mia esposizione viene calcolata su quella piccola area centrale questa è una cosa che a me fa molto comodo perché da un lato posso escludere tutto il resto dall'altro mi dà una misurazione abbastanza precisa di quello che ho messo nel centro del mio fotogramma che di solito è il mio soggetto. Nel caso stessimo scattando con una modalità di esposizione automatica abbiamo anche la possibilità di prendere la nostra misurazione e poi bloccare l'esposizione ricomporre la nostra immagine e a quel punto scattare la fotografia quindi per quanto sia una modalità automatica rimane anche abbastanza versatile. Procediamo e vediamo che abbiamo lettura spot questo è un metodo che a me piace abbastanza anche se raramente lo uso. Il metodo di misurazione spot mi consente di andare a prendere l'esposizione solamente dal mio piccolissimo punto centrale quindi nel momento in cui imposto spot la mia lettura sarà un puntino piccolissimo nel centro del fotogramma. Questo potrebbe non essere quello che voglio perché per esempio in questo esempio che vi faccio vedere io starei andando a prendere una lettura di questo puntino bianco quindi starei mancando quello che voglio esporre veramente che sono queste michettine. Però è vero anche che io potrei posizionarmi su una di queste michettine e prendere una lettura estremamente corretta e accurata di quello che c'è sul mio punto di messa a fuoco dopodiché potrei nuovamente bloccare l'esposizione, ricomporre l'immagine e andare a scattare la mia fotografia. Andiamo all'ultima opzione che è media pesata al centro questo è un metodo che è simile alla misurazione valutativa in questo caso però prende in considerazione la maggior parte del fotogramma sostanzialmente tralascia i bordi prende in considerazione quello che sta al centro e semplicemente non tiene conto di dove stiamo mettendo a fuoco è un'ottima modalità se stiamo facendo per esempio paesaggio e vogliamo avere una media ponderata dell'esposizione su tutto il fotogramma. Ora tutti questi metodi di lettura funzionano quando stiamo utilizzando le modalità automatiche nel senso che vanno automaticamente a fornire una lettura e questo che cosa significa? Significa sostanzialmente riuscite a vedere la ghiera con la nostra esposizione significa che nel momento in cui abbiamo un'esposizione corretta riuscite a vedere in questo momento è decisamente sovraesposto quindi il mio esposimetro mi sta dicendo che sono sovraesposto siccome sto lavorando in manuale non succede niente quindi devo essere io a regolare la mia esposizione e vedete che mi avvicino al punto 0 e così sono a 0 in questo momento la mia immagine è esposta correttamente ma sono io che l'ho esposta correttamente andando a lavorare in manuale se io stessi lavorando in automatico la fotocamera lavorerebbe da sola per ripropormi quel valore anche nel caso in cui fosse sbagliato in quel caso dovrei andare ad agire sulla compensazione dell'esposizione per pareggiarlo ma personalmente credo che a questo punto sia molto più pratico lavorare semplicemente in manuale come potete vedere qui sto tornando a sovraesporre quindi adesso potrei chiudere il diaframma per tornare ad avere un'esposizione ottimale qualsiasi cosa io faccia posso sempre recuperare i miei valori ottimali di esposizione andando ad agire sui tre parametri del triangolo dell'esposizione il modo di lettura ci dice semplicemente che porzione del fotogramma sta venendo valutata in realtà l'immagine dipenderà poi dai parametri che noi immettiamo oppure dai parametri che permettiamo alla macchina di immettere nel caso in cui la stiamo usando in modalità automatica nella maggior parte dei casi spetta comunque a noi la decisione finale perché dobbiamo comunque fare uno scatto di prova e renderci conto se quello che abbiamo fatto corrisponde a quello che volevamo oppure no nella maggior parte dei casi la misurazione valutativa potrebbe restituirci dei buoni risultati soprattutto se stiamo lavorando in automatico nel caso in cui stiamo facendo qualcosa di statico come un paesaggio la media pesata al centro può essere quello che fa per noi nel momento in cui però vogliamo prendere delle letture precise sulla nostra scena andiamo a ricorrere alla misurazione parziale e in particolare vi faccio vedere come la utilizzo io io vado a prendere una scena che sto fotografando e vado a effettuare una misurazione parziale sulle aree che mi interessano di più quindi generalmente vado a prendere una lettura sulle luci e una lettura sulle ombre normalmente la media di questi due parametri potrebbe essere molto vicina all'esposizione ottimale nel caso in cui io invece volessi proprio esporre per le luci o per le ombre andrò a prendere una misurazione solamente sull'area della fotografia che voglio effettivamente esporre correttamente per esempio se sto facendo un controluce potrei andare a prendere una misurazione sul volto del mio modello o della mia modella oppure se sto facendo un controluce e voglio vedere la siluetta andrò a prendere l'esposizione solamente sullo sfondo in questo caso la lettura spot può anche risultare molto utile perché mi consente di avere una lettura estremamente precisa magari solamente su un singolo punto luce magari io non voglio bruciare un punto luce con la misurazione spot vado a misurare esattamente quel punto luce o quel punto d'ombra se è per quello in maniera tale da assicurarmi che quel punto venga esposto correttamente è importante scegliere quale di questi metodi utilizzare perché se stiamo lavorando in automatico ci cambia completamente l'esposizione della stessa scena nel momento in cui andiamo a cambiare questo metodo di misurazione è importante saperlo usare anche in manuale perché nel momento in cui riuscite a vedere qui questo esposimetro io qui sto decidendo come deve essere la mia esposizione in questo caso l'esposizione è giusta perché come potete vedere il mio ago è a zero io però potrei voler sovraesporre o sottoesporre ma a seconda di quello che ho impostato la macchina mi darà una lettura solamente al centro oppure su tutto il fotogramma quindi io devo ricordarmi a che cosa corrisponde questa misurazione perché se gli ho detto che voglio tutto il fotogramma ma in realtà voglio esporre per una cosa piccolissima in un angolo sto sbagliando e la mia esposizione non verrà corretta quindi devo ricordarmi di questo passaggio per avere l'esposizione ottimale anche se sto scattando in manuale bene amici direi che è inutile che mi dilunghi è una cosa che c'è da sempre è una cosa parzialmente ormai anche superata perché adesso sulle mirrorless abbiamo su alcune abbiamo addirittura il false color quindi possiamo vedere a schermo che cosa sta clippando e che cosa no sulla maggior parte dei dispositivi abbiamo l'istogramma quindi per esempio io in questo momento sto filmando e vedo l'istogramma sul display quindi so esattamente dove stanno i miei chiari, i miei scuri le mie alte luci, le mie ombre so tutto, vedo tutto però imparare a utilizzare questi metodi di lettura ci serve comunque perché a seconda di quello che stiamo facendo potremmo aver bisogno di fare una lettura della luce che stiamo andando a esporre ci potrebbe servire per capire come regolare la camera anche in manuale quindi me l'avete chiesto in tanti ho realizzato questo contenuto sostanzialmente su richiesta per cui visto che impiego tanto tempo a realizzare contenuti personalizzati apposta per chi me li chiede credo che il minimo che possiate fare è iscrivervi al canale se siete arrivati fin qui lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che avete imparato un sacco di belle cose signori è stato un piacere passare un po' di tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento al prossimo video